E' stato un percorso molto bello perché abbiamo lavorato in gruppo e è stato anche emozionante essere la protagonista. E' stato un progetto molto creativo e divertente. Un mix di emozioni che portano a niente per tutta la vita. Secondo me è stata un'opportunità anche per far vedere le proprie abilità in campi diversi. E' stato un'esperienza indimenticabile. E' stata un'esperienza fantastica che mi ha aiutato a sconsigliare molte paure. E' stato emozionante. Ho avuto tantissima ansia, mi è andata benissimo. E' stata una cosa molto creativa. Molto fantastica. Per me è molto creativo. Ascia è una variata del teatro. Per me è stato super ingegnoso. E' stato esplosivo. Il teatro mi ha dato la mano a, come posso dire, stringere a nuove amicizie. Perché ha scopato in me stessa una passione nella recitazione che prima non ho conosciuto. La parte che mi è piaciuta era vedere come da una storia inventata da noi si è diventata uno spettacolo. Esperienza magica. Un'esperienza che ha dato un botto di sicurezza. E' stato davvero strepitoso. Ed. Ed. Grazie a tutti.